da Mosca Mark Bernardini per Visione TV. Qui a Mosca è mezzanotte tra il 23 e il 24 agosto 2023. In Italia sono le 11 di sera del 23. Dell'affare Prigogin i media occidentali ne hanno scritto quasi prima che l'aereo fosse precipitato. Tutti sanno già tutto. Tutti hanno interpretato tutto. Tutti hanno già indagato, giudicato e condannato. Beh, io che a Mosca ci vivo nuovamente da un quarto di secolo, confesso che non so nulla. No, non per la vulgata per cui in Russia non ci fanno sapere nulla. Al contrario, qui ne sappiamo molto più di voi. L'Agenzia di Stato dell'aviazione ha pubblicato gli elenchi passeggeri di questo mini-jet Embraer privato appartenente a Prigogin. E così tutti scrivono che l'Agenzia Rosa Viazia ha confermato la morte di Prigogin. Non è vero. La conferma deve venire dagli investigatori che stanno lavorando in questo preciso istante sul luogo del disastro e da nessun altro. Russia 24 e la TASS hanno confermato la morte di Prigogin. E non è vero. Non hanno confermato alcunché. Poi i soliti canali alternativi affermano che le truppe della Wagner si stanno mobilitando dalla Bielorussia verso Mosca. E non è vero. Tra l'altro, spesso sono canali che si spacciano per russi e invece sono gestiti dagli ucraini, finanziati occultamente dagli occidentali. il punto non è se sia morto Prigogin. Di certo l'aereo è caduto con sette passeggeri a bordo e tre addetti, cioè la hostess, il pilota e il secondo pilota. Dunque, il punto è attentato a bordo? Allora, chi ha messo le bombe? O drone ucraino? No, dicendo in occidente che sia stata la contraerea russa. La domanda, come sempre in questi casi, è cui prodesto? Invito tutti alla massima calma, alla prudenza. Non fidatevi dei canali alternativi e nemmeno, soprattutto, del mainstream mediatico occidentale. Non fatevi megafono dei provocatori. Attendiamo informazioni affidabili. Il tutto mentre Putin parla alla riunione BRICS in Sudafrica, di cui in questo modo non parla nessuno. Coincidenze? Personalmente non ci ho mai creduto.